Oggi ci troviamo al centro sportivo Santa Maria di Vigevano perché gli atleti dell'associazione Ricominciamo a Volare si stanno preparando per un evento immenso. Immenso perché? Perché è un evento che non si svolgerà a Vigevano ma esattamente a Capodorlando in Sicilia e qui con me ho Enzo Miraglino che ci spiega esattamente cosa succederà a Capodorlando il 2 luglio giusto Enzo? Allora noi partiamo giovedì 29 giugno e cominceremo ad adattarci al mare in questa zona ci trasferiremo nella giornata di sabato a Vulcano e da Vulcano attraverseremo un tratto di mare che in questo caso unirà l'isola di Vulcano alla costa siciliana 37 chilometri a nuoto con questi ragazzi che oggi sono qua al centro Santa Maria e gli altri amici in canoa perché insomma 37 chilometri sono un'impresa abbastanza rilevante e la prima di questo genere non in Italia non in Europa al mondo nessuno ha mai fatto un'impresa come questa questo è quello che stiamo facendo anche perché voi volete portare tutti gli sport i vostri sport che state effettuando in questi in questi anni a sport inclusivi per il mondo assolutamente noi stiamo veramente a 360 gradi stiamo facendo molte attività sportive abbiamo iniziato con la pallavolo che è il nostro sport principale abbiamo continuato adesso da tre mesi con allenamenti in piscina e domenica scorsa anche al mare la prima prova poi abbiamo la pallamano siamo stati invitati dalla nazionale di pallamano a un evento misano adriatico a metà luglio e faremo parte di una manifestazione rappresenteremo la nazionale o a un torneo e faremo altri sport tutti gli sport che ci proporranno a livello di inclusione per la nostra attività di ragazzi diversamente abili in carrozzina lo faremo e lo faremo con entusiasmo e con tanta buona volontà bene noi vicevalesi siamo orgogliosi di voi grazie che tenete in alto il nome dello sport grazie mille e grazie all'associazione ricominciamo vorale ciao a tutti ciao a tutti e grazie